GOL è una società scientifica degli oculisti ambulatoriali territoriali, nata quasi per gioco nel 2010 per mano di un gruppo di temerari e tesa a valorizzare il ruolo degli oculisti territoriali e tutelare tutti i cittadini, promuovendo ogni attività di prevenzione e nello stesso tempo curando l'aggiornamento professionale degli oculisti. Agisce in collaborazione con gli altri colleghi universitari, ospedalieri, liberi professionisti, cercando di costituire tutte le alleanze possibili e immaginabili, anche con le associazioni dei pazienti. Fate quindi informazione, formazione, ricerca e progetti per i pazienti. Com'è cambiato il ruolo dell'oculista ambulatoriale? Siamo diventati più intraprendenti, abbiamo preso coscienza anche del nostro valore, della nostra importanza, siamo sempre quelli in prima linea sul territorio, abbiamo goduto della collaborazione che ci è giunta da molte parti, abbiamo scoperto che è importante l'adeguata informazione e la giusta comunicazione per promuovere la prevenzione e la pronta diagnosi di ogni malattia oculare. Perché associarsi? Associarsi deve essere un atto non usuale, associarsi può essere e deve essere entrare a far parte attivamente dalla società scientifica, portando avanti progetti, idee, iniziative, in maniera da lavorare tutti insieme e quindi far sì che la società scientifica viva come una squadra e quindi a ruota ognuno deve portare avanti le proprie idee per realizzare i progetti. Quali sono i progetti di Gol? I progetti di Gol a causa della pandemia sono aumentati, abbiamo scoperto o riscoperto che la prevenzione era stata trascurata in tutte le età della vita, dall'età pediatrica a quella lavorativa e a quella matura e quindi ci siamo dedicati in prima istanza a coloro che sono stati dimenticati, pazienti cronici, per curare i pazienti Covid, però le altre patologie non aspettano. Abbiamo dedicato recentemente molto tempo e lo continuiamo a dedicare all'amaculopatia, una patologia apparentemente nota, ma non poi tanto, che abbraccia un numero di cittadini considerevole. Se pensiamo a quella diabetica, all'incremento dei diabetici nel mondo, in Europa e in Italia, quindi ci porta a comprendere. Però non dimentichiamo altre patologie croniche quali il glaucoma, l'importanza di poter diagnosticare e curare prontamente chirurgicamente la cataratta, le patologie che affliggono coloro che lavorano e soprattutto è importante recuperare la prevenzione per quanto riguarda l'età pediatrica, correggendo ogni difetto visivo e ogni patologia oculare che è possibile curare e riabilitare.